Sì, almeno un'ora ti durerà, per tutto è che devi andare dalla sua parte, è perché sei venuta a truccarti, scusa. Allora, questa palette è del 15-18, anche se è tenuta, come puoi vedere, in ottimo stato, ha visto la seconda, ma addirittura anche la prima guerra mondiale, quindi credo che se ha resistito così tanto, un motivo ci sarà. Allora, questo qui lo provai così, poi me ne arriva un altro e lo lasciai aperto, quindi c'è un po' di anni, però ti assicuro che fa la sua bella figura. Ora ti sistema un po' le sopracciglia, questo pochissimo gel che è rimasto su questo viso stanco, morto che hai, morbidissimo, è solo che lo tenevo tipo in uno scaffale, fino a una menzola, non mi ricordo, ha preso un po' di polvere, gli ho dato giusto una spolverata così adesso, con le mani, ma è buono, è molto buono, le setole sono morbide, quindi no, certamente, e no, non mi va di usare le cose mie su di te, quindi già sai che sto usando il fondotinta, questo fondotinta ha un po' di anni pure, ops, lo scovolino si è rovinato, non ti preoccupare, le mettiamo lo stesso, sai che mi ricevi un po' tutto, po' lo sistemiamo, è molto secco, perché è vecchio, però ne basta poco a te, quindi un po' di quello che viene fuori, basta, vedi? Un chewing gum, sto masticandolo, è uno? Ti dà fastidio? Io mastico con la bocca aperta, va tanto a te che serve, il fondotinta è niente, che si può fare miracoli, assolutamente sono odiolosa delle mie cose, troppo sottili, chissà, ho sti sopraccigli anni 90, no 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 che sei venuto a fare? e quindi stai cercando vuoi che ti trucchi io? no, non è che mi scoccia però avrei altre cose più importanti da fare sinceramente però ormai non hai fatto tutta sta strada per venire a cercarmi che devo fare? se te posso facciare ma non posso hai i trucchi? non li hai portati? ti dovrei truccare? con la mia roba con i miei trucchi? fammi capire mi stai forse dicendo che devo osare osare i miei pennelli? il mio make up sulla tua faccia? mi stai dicendo questo? è un mozzo e noi che devo fare ormai fa tutta sta strada è che te posso mandare via non posso? vabbè tanto non è che con te si possano fare miracoli non è che hai bisogno di chissà cosa sì a te andrebbe fatto un mascherone per cambiarti la faccia onestamente vabbè dai non perdiamo altro tempo no io sono proprio così lo sai mi conosco ormai quindi siediti ho detto dal nervoso sto perdendo i capelli ho detto dal nervoso sto perdendo i capelli sei così nell'immediato che sto pensando cosa usare su di te senti ho questo siero vecchio come il mondo però era eccezionale ai tempi quando lo usavo io poi sai con le collaborazioni e cose varie mi mandano nuovi make up quindi nuovi prodotti scusami quindi un po' quelli che tengo iniziati rimangono dietro nel frattempo sono passati più o meno tre anni quattro anni però ti giuro da allora non è mai stato aperto te lo metto in faccia adesso che 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 getlli ok tanta pazienza non avevi messo la base giusto? a te pareva pensassi una come te si compra le creme, i gel e cose no niente lascia stare, parlavo da sola chi ti fa le sopracciglia? te le fai da sola? sono proprio diverse, ma dall'altra non te le sai proprio fare no assolutamente infatti troppo sottili una punta all'altra tonda troppo sottili che so sti sopracciglia anni 90 si pure io sbagliavo a farmela, però poi ho capito che era meglio farle crescere eh si le mie sono un po' diverse per natura, ma le tue le hai ridotte tu così non è che si buffa molto un chewing gum, non masticando un chewing gum sto masticando, non è uno ti dà fastidio? io mastico con la bocca aperta senti? i pennelli per il mio fondatinta BB cream io uso quello più leggero l'estate, lo sanno tutti ormai sono a lavare perché io li lavo dopo che li ho utilizzati per tenerli sempre puliti e disinfettati quindi non posso usare i miei pennelli su di te anche perché sono nuovi cioè non mi va proprio di andare a ad usare un pennello buono mio che ci ho speso tanti soldi sulla tua faccia se permetti non vali tanto quindi ho un'idea io utilizzerò questo pennello sul tuo viso questo no, non graffia guarda com'è morbido morbidissimo è solo che lo tenevo tipo in uno scaffale fino a una mensola, non mi ricordo ha preso un po' di polvere gli ho dato giusto una spolverata così adesso con le mani ma è buono è molto buono le setole sono morbide quindi no, certamente e no non mi va di usare le cose mie su di te quindi già sai che sto usando il fondatinta questo fondatinta ha un po' di anni pure perché poi è rimasto poco ci sono proprio dei rimasugli e beh ma tanto attacco che serve il fondatinta niente non è che si può fare miracoli assolutamente sono gelosa delle mie cose un po' di rimasugli basteranno su questo viso stanco morto che hai vedi il prodotto è vecchio ma è ancora buono è pochissimo ma si stende anche una bellezza ma si stende anche un po' di rimasugli non si stende anche un po' di rimasugli non si stende anche un po' di rimasugli senti senti oh 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 tu uso il gel per le sopracciglia ma mazza questo sapato allora questo qui lo provai così poi me ne arriva un altro e lo lasciai aperto quindi c'è un po' di anni però ti assicuro che fa la sua bella figura ora ti sistema un po' le sopracciglia questo pochissimo gel che è rimasto si esattamente si esattamente si esattamente si esattamente si esattamente si esattamente ok no no non ti tocca che stai a fare non ti tocca no 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 e poi ho messo non lo so un po' di ombretto no i pennelli ripeto non li uso su di te quindi i miei pennelli non si toccano e poi sono a lavare quindi allora questa palette è del 1518 anche se è tenuta come puoi vedere in ottimo stato ha visto la seconda ma addirittura anche la prima guerra mondiale quindi credo che se ha resistito così tanto un motivo ci sarà perciò adesso ti vado a mettere un ombretto nude perchè ti spiego se io vado a mettere un ombretto un po' più acceso sulle sulle tue palpebre stoneresti e non poco non hai un viso bello fino delicato no dai sei un po' così ecco quindi se tu fossi stata più aggraziata allora avrei azzardato ma su di te non me la sento proprio dita dita è nude quindi si noterà se sei brava resta ferma vedi abbiamo finito già poi andrò ad utilizzare questo mascara che non ricordo nemmeno che effetto faccio sulle ciglia perchè fa un botto di tè proprio questo ops lo scovolino si è rovinato non ti preoccupare li mettiamo lo stesso sai che Mary Jane un po' tutto poi lo sistemiamo è molto secco perchè è vecchio però ne basta poco a te quindi un po' di quello che viene fuori basta vedi si vuole un po' di pazienza eh si risistema no assolutamente mica uso questo io è mica so scema ma che c'entra ti ho detto non ti posso truccare con le mie cose ok anche opp app 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 tick 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 app app da l'altro lato bene, questo è proprio fatto ed infine questo lucidalabbra che sapeva odorava di fragola adesso puzza un po' però fa il suo effetto sì, almeno un'ora ti durerà tutto è che devi andare dalla sua parte è perché sei venuta a truccarti, scusa avevi voglia così di farti truccare volevi farti coccolare hai scelto la persona giusta tutto l'ora bella ecco ok il contouring il contouring allora senti a me è arrivata una nuova mini palette per contouring della license però nuova non la voglio utilizzare utilizziamo che ci faccio con questo pennello non ho altri pennelli a disposizione per farti il contouring che devo fare con le dita e sono a polvere questi non ti preoccupare non succede niente non ci faccio con le dita e qua andiamo a sfumare no, ti sono ripeto dei rimaturli di fondotinta ma va bene sì, andava un po' affinato il viso vabbè già ho detto cosa penso di te che sei tutta sta grande bellezza però spero che tu adesso sia contenta ok sei contenta? ti piace? no, non abbiamo dimenticato nulla ok allora vabbè sì ciao 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 aspetta aspetta e la prossima volta semmai tornerai cerca di portare il tuo trucco eh sì sì porto tutti i tuoi trucchi compresa le creme non mi va di sprecare il mio ciao bai bai ciao 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 ciao